Ciao! Se mi seguite avete visto che da circa un mesetto sto provando dei prodotti da un'azienda che gentilmente me li ha mandati per farmi provare. Vorrei specificare che io non ero tenuta a fare questo video né tantomeno a parlare bene dell'azienda, quindi ve ne parlo con tutta onestà. L'azienda in questione è Stai Bene Cosmetica, che è un'azienda completamente bio italiana. Sì, ma cosa mi hanno mandato? Io per circa un mese ho provato un loro trattamento che è composto da più prodotti. Questi prodotti servono per ridurre cellulite, ritenzione nitrica, buccia d'arancia e capillari evidenti. Il primo step è il fango salva capillari. Questo qua, se avete visto nel vlog appunto, io lo applicavo due volte al giorno, mattina e sera. Ed è un fango che ha tipo un effetto ghiaccio freddo, è la cosa più bella del mondo. È senza risciacquo, quindi si applica, poi basta aspettare tipo due minuti, si può indossare sopra tranquillamente dei vestiti, non macchia. Ma la sensazione, io non so spiegarvela perché non l'ho mai provata in nessun altro prodotto. Principalmente questo step serve per eliminare le tossine. Il secondo step è questo scrub detox. Anche questo ha un effetto freddo bellissimo. Si applica circa 3-4 volte a settimana, su pelle umida, si massaggia. Questo ha la funzione di riattivare il microcircolo, drenare i liquidi, in modo da far assorbire meglio i prodotti che si applicano dopo. Ultimo step, anche questo super rinfrescante, è questo spray. Che vedete ne ho utilizzato poco perché va applicato gli ultimi 15-20 giorni dal trattamento iniziale. È un siero urtozone, quindi va applicato solamente nelle zone più critiche dove ci sono gli inestetismi più evidenti. Voglio essere super super sincera. Io non credo che ci siano dei prodotti che facciano dei miracoli, però questi prodotti a me hanno aiutato tantissimo. Io ho sentito proprio un cambiamento a livello di pelle. La mia pelle si è tipo super tonificata e non so se è un'impressione mia, ma io vedo che le mie gambe si sono tipo molto molto più asciugate. È un trattamento per l'estate meraviglioso perché vi rimette al mondo delle gambe, non so come dire. Quindi io ringrazio ancora tantissimo l'azienda perché mi sono trovata super bene. Vi scrivo qua il loro sito se volete andare a vedere tutti i prodotti che hanno. Fatemi sapere soprattutto se li provate. Ciao ciao!